ragazzi buongiorno benvenuti al mio canale questa questo un video dedicato a un piccolo crash che ho avuto stamattina eh sì il mio piccolo drone si è disintegrato ammiratelo in tutta la sua bellezza disintegrato senza un motivo ovvio ero più o meno una decina di metri di altezza senza motivo ovvio il drone cosa ha deciso di fare spegnersi in volo e precipitare e così vi faccio vedere adesso la felicità di quando mi era arrivato e poi vi farò vedere il video di come ho precipitato il drone perciò meglio di così si muore boh adesso vi passo alla seconda parte ciao a io ciao ragazzi con il mio gimbal mio nuovo Huawei metto 20 sto facendo il mio primo unboxing molto 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 sofferto perché sofferto perché ci hanno messo solo una settimana solo una settimana allo sducanamento impressionante adesso vediamo che cos'è ma ogni viaggio ce l'ho è un bellissimo drone della JJRC ed è praticamente il Iron X9 è un drone brushless motori brushless con telecamera con gimbal 1080p se non sbaglio 5 megapixel radio comando che ha la frequenza di 2.4 gigahertz e invece tramite la fotocamera invece 5 gigahertz e niente è dotato di GPS non so esattamente se è dotato oppure di GLONASS però non penso perché GLONASS c'era il il chip light rim tiriamo fuori il contenuto del pacchetto ovvie istruzioni se non sbaglio solo in inglese il piccolo drone che sembra quasi incredibile con il suo gimbal questo qui il drone mettiamo da parte il drone il sostegno della radio per il cellulare sul radiocomando poi solita plasticona abbiamo due eliche di scorta con dentro un adattatore perché con dentro un adattatore dove questo adattatore qua siccome sicuramente la presa è americana dovremmo adattarla quella svizzera o italiana europea poi questo qua è per il caricabatterie del drone invece per il radiocomando abbiamo una classica cavo cavo no aux cavo usb il classico la classica ricarica e niente questa è quella batteria e da 11.4 volt con una capacità di 14 15 minuti niente di più niente di meno questo qua per vedere la carica per accendere bisogna tenere premuto non lo so neanche io perché altre volte mi capita e niente radio comando già mi stava cadendo allora accensione comunque sia madonna meglio quello del dell'esc 900 perché è proprio un po' plasticosa di brutto qua va bene comunque qua sopra per muovere il gimbal take off take off take out fotocamera fare foto fare video stoppare video return to home e address mode poi le antenne si aggiusteranno in qualche maniera perché queste qua sono antenne però e niente fare un video per l'applicazione ovviamente qua c'è da cerco di cqr dove fare dove scaricare l'applicazione sia per ios che per android niente per adesso è tutto una storia per far arrivare questo drone una storia però l'importante è che adesso ce l'ho e lo testiamo ma comunque se non se avete domande ovviamente contattatemi sui commenti iscrivetevi al mio canale e vediamo i prossimi video farò parecchi video con questo panoramici siccome sono in svizzera cosa c'è di meglio delle alpi svizzere perciò ci vediamo prossimamente sul mio canale ciao a io e adesso ragazzi il video di come si è spaccato il drone precipitando vabbè adesso buona visione del video e dopo ci vediamo al prossimo video mi si è spaccato il drone ciao a io ciao ciao a io 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 ciao a io